Tre persone agli arresti domiciliari, l'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica è stata eseguita dalla squadra mobile a carico di tre indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, tutti pluripergiudicati per reati specifici. Le indagini sono cominciate a fine 2018 in seguito alla morte per overdose di un giovane. Sotto accusa al momento c'è un pluripergiudicato di Napoli, ma gli accertamenti svolti attraverso la ricostruzione dei contatti della vittima con gli ambienti dello spaccio irpino e napoletano hanno consentito di arrivare all'identificazione dei tre giovani, due dei quali in concorso tra loro si approvvigionavano di grossi quantitativi di hashish e cocaina che poi rivendevano ad altri piccoli spacciatori. Uno dei due è stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di circa 2 kg di hashish nel 2019. Il terzo invece era solito acquistare dai suoi amici in medie quantità di stupefacente che distribuiva poi ai vari clienti. Quest'ultimo in alcune occasioni ha ceduto anche dosi di metadone procacciate attraverso altri canali. Durante le indagini è venuto fuori che gli spacciatori e i clienti avevano enorme fantasia nell'uso di termini allusivi per indicare le sostanze oggette dello spaccio, la quantità da acquistare. Ma evidentemente il particolare linguaggio non è servito a depistare gli uomini della sezione antidroga che hanno effettuato diversi riscontri in merito con il sequestro di droga, soprattutto cocaina.